Ciao a tutti amici, questa storia è successa in Cile. Un padre stava accudendo suo figlio quando all'improvviso è successa una cosa tragica. Ma quando la storia venne raccontata tutti si commossero dicendo di non aver mai assistito a qualcosa di simile. Se siete pronti partiamo. Era una fredda mattina d'inverno. Pedro era in casa insieme a suo figlio. Aveva finalmente il tempo per stare insieme a lui dopo tanti giorni di lavoro estenuante. Tra ritardi e consegne dell'ultimo minuto non ne poteva proprio più. Faceva un lavoro che non amava per mantenere suo figlio Carlito. Era l'amore della sua vita, l'eredità lasciata dalla sua defunta moglie. Ogni giorno faceva le stesse cose anche se era in vacanza ma erano cose che amava almeno. Cambiava i pannolini a Carlito, li dava da mangiare, lo coccolava un po', poi li lasciava ai suoi giocattoli preferiti mentre lui si guardava un po' di televisione. In inverno usciva poco, preferiva non far ammalare il piccolo. La parte preferita di Pedro era a dare il latte con il biberone a Carlito. Era il momento in cui il piccolo mostrava tutta la sua vitalità pur di bere quel latte che gli piaceva tanto. Il problema però era che negli ultimi tempi l'uomo sentiva sempre un dolore fortissimo al braccio sinistro. Lui era mancino quindi era una situazione difficile, ma la soddisfazione nel vedere suo figlio felice superava anche quel dolore fino a un certo punto. Tutto era iniziato proprio il primo giorno di vacanze. Ma il dolore all'inizio era lieve e con un po' di medicina tutto era passato in fretta. Decise quindi di ignorare, ma giorni più tardi era tornato più forte. Sempre al braccio sinistro. Prese quindi un'altra medicina e passò, ma stavolta nemmeno qualche ora e il dolore si era addirittura diffuso in altre zone, verso la schiena. Cominciò perciò a preoccuparsi seriamente. Doveva sicuramente andare da un medico, ma non ci riuscì. Aveva paura degli ospedali. Lì aveva solo brutti ricordi con medici che non erano riusciti a salvare sua moglie dopo il parto. Dissero che tutto era andato benissimo, ma la moglie si era sentita male poche ore dopo aver dato alla luce Carlito. Perciò gli riusciva molto difficile fidarsi dei medici. Ovviamente però suo figlio Carlito andava da un medico, dal medico di famiglia. Doveva per forza farsi passare questa cosa. Suo figlio avrebbe sempre avuto bisogno di un medico per riuscire a rimanere in salute. Infatti negli ultimi tempi ne stava cercando un altro ancora, perché si erano trasferiti. Però per lui proprio non ci stava a trovarlo. Preferiva andare avanti di medicina, ma ahimè, è meglio non ignorare anche solo il più piccolo dei sintomi. Il dolore di Pedro andò anche al petto. Era come se il suo corpo a volte diventasse rigido. Un giorno, durante una normale giornata qualunque, la situazione si fece ingestibile. Stava dando da mangiare al piccolo che però, quel giorno, aveva qualcosa di strano. Pianse e pianse per mezz'ora. Pedro intanto aveva sempre più mal di testa e cominciò a sudare. Non riusciva a capire niente. Cercava di calmare Carlito e allo stesso tempo di calmare se stesso. Ehi piccolo, avanti, non preoccuparti, papà è qua. Continuava a dirli, ma niente da fare. Prese così il cellulare e notò come le sue mani fossero diventate fredde. Cercò di comporre un numero per chiedere aiuto, ma cadde a terra, con il corpo in preda ad una paralisi parziale. Riusciva solo a muovere un braccio e una gamba. Non si rendeva conto che stava avendo un attacco di cuore. Non ce la fece più, infine, e si aggrappò alla culla per reggersi. Ma rivolto a quest'ultimo, facendo cadere anche Carlito, fortunatamente cadde sul morbido e non si fece niente. Cominciò a piangere più forte di prima per cercare l'aiuto di suo padre, quest'ultimo. Dopo vari minuti però smise. Era come se avesse capito ormai che era inutile e che comunque era successo qualcosa. Andò gattonando vicino al genitore. Cominciò a toccargli il volto, come a volerlo svegliare, ma niente da fare. Pianse di nuovo, ma stavolta un pianto leggero, niente di rumoroso. Forse non voleva infastidire Pedro. Dopodiché cominciò a gattonare per tutta la sala, fino a trovare la porta d'ingresso. Carlito aveva solo due anni, ma già alcune situazioni sembrava capirle. Come questa, in cui suo padre era in pericolo. Arrivato davanti alla porta principale però, si rese conto che era chiusa e quindi non poteva fare altro lì. Cambiò direzione, verso la porta sul retro, che affacciava al giardino aperto della casa. L'unico giardino che il padre non aveva recintato per mancanza di tempo. La porta era una di quelle di vetro e legno, quindi si vedeva all'esterno. I suoi piccoli occhi cominciarono così a cercare altre persone. Notando come i primi secondi non si vedesse nessuno. Cominciò a piangere, come voleva urlare per farsi sentire anche in lontananza. Finalmente, grazie a ciò, la vicina di casa di nome Gledi lo vide. Lei si era presa qualche volta cura di Carlito e riconosceva i momenti in cui era triste e in ansia. Davanti alla porta si chiese cosa stesse succedendo. Non riusciva ad aprirla e dovete trovare un piano alternativo per entrare. Andò prima da quella principale per suonare il campanello. Penso che magari Pedro stesse dormendo, ma niente da fare. Non rispose nessuno. Dopodiché cercò un modo per dire a Carlito di allontanarsi. Fece gesto di andare indietro. Il piccolo però non riusciva a capire. Dopodiché indicò un barattolo di biscotti che gli piaceva molto. Vedi Carlito? Vedi quei biscotti? Puoi averli se vuoi. Vai a prenderli. Erano sopra un comodino non troppo alto e Carlito con un sorriso andò di là. Così utilizzò un sasso per spaccare la finestra della porta. Notò come tutto fosse in ordine all'interno, quindi non c'erano stati ladri o chissà cosa. Andò da prima da Carlito. Piccolo, come mai sei qua gattoni? Lui sorrise. Era come felice di aver trovato qualcuno finalmente. Dopodiché andò verso il salotto e lì vide la scena. Poggiò Carlito dopo aver risollevato la culla e cominciò a gridare. Pedro, Pedro! Era nel panico. Non sapeva cosa fare. Si calmò un attimo Gledi e controllò prima il polso. Per fortuna era ancora in vita. Il battito c'era. Dopodiché vide il telefono e lo prese per comporre il numero delle emergenze. L'ambulanza appena arrivata vide la scena e chiese subito a Gledi la situazione. Sono entrata in casa e ho visto questa scena. Tutto è iniziato quando ho notato il bambino davanti alla porta sul retro piangere, come se stesse chiedendo aiuto. I paramedici sorpresi le dissero. Lei e questo bambino avete salvato la vita all'uomo. Un minuto più tardi chissà cosa sarebbe successo. Incredibile che soltanto a due anni sia riuscito a pensare a un modo per aiutare il padre. Probabilmente tutto merito dell'istinto. Gledi dopodiché con il bambino in braccio andò in ospedale. Sapeva che era un uomo molto solo, Pedro. Dalla morte della moglie non aveva più voglia nemmeno di fare amicizia. Per questo motivo lei era praticamente l'unica amica. Arrivati in ospedale, Gledi cominciò ad aspettare nella sala d'attesa, dando un po' di latte al piccolo, che intanto si era calmato. Infine finalmente le dissero il risultato. Erano settimane che a quanto pare il corpo di Pedro non era in salute. Aveva lavorato troppo, sia fuori che in casa. Aveva quindi avuto un infarto. Lo avrebbero perciò tenuto alcuni giorni in osservazione. Il dottore poi controllò anche il piccolo per assicurarsi che non avesse subito lesioni dalla caduta. Signora, sembra che il bambino stia bene. Per fortuna non è successo nulla. Ora, mi saprebbe dare un numero di telefono per avvertire anche la madre. Ho comunque un familiare. Gledi con amarezza disse, io sa, sono la vicina, ma non ho il numero dei parenti. Non so nemmeno se ne abbia. Non li ho mai visti nella nostra zona. È un uomo molto solo. Per quanto riguarda la moglie, beh, a quanto pare è morta dopo il parto. Il medico, dispiaciuto, chiese scusa e capì che non c'era bisogno di contattare altri. Sa, ho compreso, non c'è bisogno che contatti altre persone. Potrebbe farsi lei carico del piccolo, che ne dice. Non possiamo lasciarlo solo ora, altrimenti sarò costretto a chiamare gli assistenti sociali e quando entrano in gioco loro la situazione, beh, diventa complessa. Gledi capì benissimo. Non c'era bisogno di continuare oltre e non c'era bisogno che Pedro perdesse Carlito. Perciò accettò l'offerta e lo portò in casa con sé. Il piccolo era triste e nei giorni seguenti fece fatica a mangiare. Sentiva chiaramente la mancanza del padre. Finalmente, dopo quei giorni, quest'ultimo si risvegliò. A quanto pare era in uno stato di coma temporaneo. La prima cosa che fece fu chiamare suo figlio, ma non trovandolo lì andò nel panico. Dov'è? Dov'è? Chiese per molto. Infine il medico gli disse che era con la vicina. Gledi il giorno stesso lo portò in ospedale, Pedro si mise a piangere. Mi dispiace Carlito, sono un padre orribile, vero? Si sentiva in colpa per tutta la situazione. Un infermiere sentì tutta la storia e si commosse, cominciando a raccontarla anche ai suoi colleghi. In ospedale divenne molto popolare per le incredibili capacità del bambino e la sua incredibile empatia nel sentire il padre nei guai. Nelle settimane seguenti finalmente venne dimesso Pedro e poté tornare a casa. Incredibilmente tutto era pulito e c'era perfino del cibo in tavola. C'erano Gledi e Carlito ad aspettarlo. La signora gli disse alcune cose molto importanti. Va bene lavorare per tuo figlio, ma se esageri e tu succede qualcosa, cosa farà Carlito senza un altro genitore? Pensaci bene la prossima volta, il lavoro viene sempre dopo la famiglia, mai prima. Pedro commosso la ringrazia di cuore. Quel giorno accese la tv per vedere un po' di notizie e trovo la sua. Un bambino salva il padre semplicemente gattonando. Era diventato virale in poco tempo suo figlio. Un giornale locale andò a intervistare Pedro e lui disse una cosa molto commovente, raccontando tutta la sua storia dall'inizio con la morte di sua moglie. Da quando non c'è più a volte penso sia dura, anzi è veramente dura, ma poi mi basta vedere il sorriso di questo piccolino, dell'ascito di mia moglie, il sorriso di mio figlio che ogni giorno mi incita ad andare avanti. Però ho capito una cosa, non posso e non devo strafare da solo. Da ora in poi cercherò di sforzarmi di meno per il bene di Carlito perché merita che io sia presente nella sua vita, sano e forte per crescerlo.